Siamo veramente felici di essere qui all'invenzione della televisione, questa nuova trasmissione, What a Night, perché per la prima volta qui siamo tutti i concerti da tavolo, tutti i maggiori musicisti che hanno partecipato ai concerti da tavolo per questa serata speciale. Noi facciamo musica appunto da tavolo, musica a basso volume, musica a volume sul suo tavolo, diciamo un genere e siamo ben lieti di fare questa diretta per voi, l'invenzione della televisione What a Night, iniziamo con... That's the only thing I play to you, baby Scream a while, scream a while, we used to find happiness And I guess, all the things you've always find for G I like to see you looking swell, ooh baby Diamond brushless, uvo doesn't sell, my really baby Till the lucky day, you know that world, baby And I can't keep you anything I'm worried Grazie a tutti. 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 Arte concettuale. Arte concettuale. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Comunque questi sono i concerti. Non solo da tavolo ma da tavolata. Perché ci sono tutti praticamente. Ci sono tutti. Come i film degli anni di Quasto. tipo Big Night. E il Timbago di Vasto. Che altro? Che possiamo fare? Sunnyside? Dai, Sunnyside. Facciamo metà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo due seguenti. No, no. Facciamo una volta. Mi fai girare il tuo tre. E' il Timbago di Vasto. 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 Brava la precedente. E brava quella attuale. E' il Timbago di Vasto. E' il Timbago di Vasto. Stiamo facendo la infale tra le parti alte. E' il Timbago di Vasto. Le Pesso. E' il Timbago di Vasto. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. suone così. , Grazie a tutti. 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 che ci ha portato per un attimo in Francia. Io direi di fare un brano di chiusura, perché questa è un brano di chiusura, perché questa è l'invenzione della televisione, che è un brano di chiusura, con la televisione, è un brano di chiusura, è un brano di chiusura, è un brano di chiusura, e un brano di chiusura, e un brano di chiusura, è 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 un brano di Grazie per la visione 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 Grazie per la visione